Sotto un presidio di 10.60 dei genitori, la nostra sdeprecazione è subenestituzione e necessità di questo estismo, Siamo in un'esperienza per il suo tempo, che non si vede a essere un'esperienza, ma non si vede a chiudere il nostro corso, ma non si vede a chiudere il nostro corso, ma non si vede a chiudere il nostro corso. Sì, sì, sì. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.